Grazie a tutti Era il modo in cui sappiamo regattare Tanto era ammarico per il primo giorno Però dovremmo riuscire a essere un po' rientrati Tra quelli che si giocano qualcosa E basta Era quello che dovevamo fare Tutto normale Queste sono le condizioni che ti piace di più Quanto vento c'era fuori? Intorno ai 20? 18-20? Ma sì Tra 18 le prime due Poi abbastanza calato su 15-13-12 Ci piace Navigare con questo vento In verità avevamo tanta voglia di riscatto Perché non era tanto diverso dal vento del primo giorno Non è quasi mai un problema di vento È un problema di testa Oggi la testa c'era Bravissimi, complimenti davvero Ciao